Primo Di Nicola conosce molto bene la situazione di Rancitelli, la situazione delle periferie di Pescara. Lei è stato direttore del centro fino a qualche mese fa. Voi puntate molto sull'attenzione delle periferie. Pescara è anche questo, l'Abruzzo è anche questo, l'Italia è anche questo. E questa mattina proprio da qua noi vogliamo lanciare un messaggio preciso che è innanzitutto di testimonianze e di sostegno alle realtà territoriali che in un quartiere come questo hanno difficoltà a sviluppare le loro iniziative. Noi da qui vogliamo questa mattina appunto lanciare un appello a tutte le istituzioni perché finalmente si facciano vivi con i cittadini di questo quartiere perché ci sono risorse sane in questo quartiere, cittadini che vogliono esercitare i propri diritti, che vogliono vivere in questo territorio, ma andare a scuola i propri figli in tranquillità senza che ci siano i timori, le paure di ritorsioni che praticamente paralizzano questo quartiere. Io ringrazio tutti i cittadini che hanno preso coraggio e che denunciano la loro situazione diciamo precaria. Il mio augurio è che le istituzioni appunto intervengano immediatamente su queste situazioni delicate e che mettono a rischio poi anche l'incolumità della cittadinanza. Qua i cittadini sono costretti a convivere con spaccio di droga diffuso, porto di armi abusive, c'è anche prostituzione all'interno del ferro di Covallo, è impossibile vivere. I cittadini chiedono aiuto, chiedono una presenza massiccia dello Stato, lo Stato deve tornare prepotentemente a farsi sentire con unità, uffici mobili di polizia. Le problematiche di quartiere sono non soltanto di Pescara ma sono dell'intera regione, perché comunque da qui purtroppo, non è tanto da questo quartiere, ma dai quartieri periferici di Pescara purtroppo arriva lo spaccio di tutto l'Abruzzo e quindi noi ci saremo, ci siamo stati e ci continueremo ad essere. La dimostrazione l'abbiamo data oggi che a dieci giorni delle elezioni, nonostante abbiamo stravinto queste elezioni, siamo qui presenti vicino ai cittadini.